All'inizio Will Smith non voleva partecipare a Man in Black, non era interessato al progetto. Sono stati due i fattori che l'hanno convinto a entrare nel cast. Il primo è stata la moglie, che era molto interessata a Man in Black e quindi voleva vedere il marito sul grande schermo e interpretare uno dei personaggi di questo film. L'altro è stato Steven Spielberg, che era produttore di Man in Black e che a un certo punto ha chiamato al telefono Will Smith chiedendogli per favore poi a partecipare a questo film e quindi Will Smith ci è rimasto un po' male, non se lo aspettava per niente e alla fine ha accettato. Sempre Will Smith per cararsi meglio nel personaggio ha detto di essere andato anche a un paio di convention sulle storie degli alieni, sul sovranatuale, per capire un attimo com'era la gente che bazzicava in quei luoghi e le persone che erano un po' in quell'ambiente. Grazie a tutti!